Siamo mescolati l'uomo, l'uomo, il parmigiano e il pecorino. Qui continua a sentire che viene a soffrirci, non c'è niente, intanto aspettiamo di bollare l'acqua. Bene è pronta la pasta, veniamo a vedere, ciao! E' proprio quanto andiamo a assemblare la nostra carbonara, quindi ci andiamo a mettere dentro il nostro gonciolotto, andiamo a miscolare, che so sto sempre con il cellulare, e poi ci andiamo a mettere l'uomo che abbiamo scolato, l'uomo, il parmigiano e il pepe e andiamo a girare. Ok, mamma mia che profumo ragazzi! Andiamo ad impiattare e andiamo a assaggiare, eh! Finalmente la parte che mi piace più, l'assaggio della nostra carbonara. Buon appetito! Assaggiamo, piatto velocissimo! Classico romano, saporitissimo, fatelo, è buonissimo! Mi raccomando, ci vuole il guanciale! Speriamo la prossima ricetta! Iscrivetevi al canale, eh! Ciao!